ciao ragazzi continuiamo il video sta giocando marco drums in compagnia della famiglia che oggi è santo stefano un saluto e un augurio a tutti augurio a tutti un anguria a tutti allora vediamo un attimo perché ieri è stato l'inizio e mi hanno fatto un po il culetto siamo in compagnia anche di olivia passativamente seduta sulla mia panza questi sono veramente in tanti aia 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 questi fanno malissimo fanno malissimo fra la cosa di fare il robot da dietro devo ancora capire oh eccola qua allora che schifo è rianimato stava dormendo non potevi dormire adesso di niente questo punto ieri sera sono scappato e me li sono trovati tutti insieme che mi ricorrevano questa scena è bacichato ma non ho ancora trovato tanti bagni fai ieri scena avevo già finito il problema ero anche stanco ragazzi e questi giochi sono fatti quando è ben rilassati che è già perduta che è già perduta e poi farò vedere nel gioco a cosa serve esattamente il gioco mi dice che il diente è pronto per giocare ok ah eccolo qua siamo saliti di livello sempre in compagnia di Bragali di Olivia e Marco Traus ragazzi ogni tanto risalto bella, 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 bella ah ma è stato sconosciuto chi è? ecco questo ieri mi ha fatto il filo questo qua oh due ce n'è è vai che fa che fa questo non è che 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 a i 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 vediamo cosa succede adesso è molto molto bello direi direi wow che Dopo il tempo passato, questo era il nome che le persone hanno dato all'interno del mondo. Le creature che sono troppate dentro del Miasma riusciano in un ciclo non finito di morte e di riportamento. Sempre cercando per le sangue per sostenere loro. Le Revenanti bisogna avere sangue. Sembra, si diventa in quelli che noi chiamiamo il Lost. Le Revenenze che capturarono te stanno cercando per il sangue, assicurati di perdere loro. È una storia commona in questi giorni. Ma rippoli stanno iniziando a creare. Hai scoperto la mia asma e rinvitalizzato il sangue. Cosa hai aprenduto a fare questo? Ok, allora Questa penso che è la base Fa caldo La rivista Ok, ah questa è la mappa Musica Ok Allora adesso non c'è niente sta Coco Ah qui per modificare l'aspetto ma mi piace No mi piace Visto? Vale Ok Season pass Qui una camera Non c'è niente Andiamo giù Ok Uh sì ma è poca roba No 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 assolutamente non mi piace E il mio compagno Chi è? Dov'è il mio compagno? Il mio compagno è che c'è qui l'ho? non si può espansioni che schicchi l'è io sono Davies certo che saliamo bella eccolo qua lui mia nessuno lui mi piaceva questo momento di te scusa sono curioso questo momento di che cosa ah dico eh testamento di che cosa ragazzi qua tu sacco ah c'era tu sacco come si è caricato sacco e andamocene andamocene guardia just case tu cazzi andamocene ok ok ho conosciuto tutti no no che era mia amica Secondo me devo andare a dormire Mi hanno già riposato troppo Guarda sto nel culo Questa è che tutti vogliono sapere più di me Allo che posso ricordare è che il mio nome, il mio nome L'ho bruciato mentre ero sicuro Non mi sembrava che sia per me La capacità di ottenere le forti da compagnie Scusate, ma potrei prendere un sacco di tuo sangue? Non sarà molto, solo una piccola vial Noi non bisogna rispare il sangue, ci sono costituire il risultato Percivali la attenzione in un'occhiata In un'occhiata in un'occhiata Ah beh, sono già da l'altra casa di ospedale. Ok. Lui, chi è lui? è lui ma se oggi ha parlato 50 volte prometeo ma non farei combattenti scusami mi fai ora continuiamo a parlare lui è ancora io voglio e sti cazzi questo voglio migliorare posso migliorarlo ancora? no non ho abbastanza foschia questo non hai abbastanza foschia vabbè niente ah la foschia è quella sotto ok oh oh e quindi le sangue diventano più rarer e più rarer. E la ordine che ha creato creato da levare e distribuire le sangue diventano, non può durare molto più lungo. Il mondo ha bisogno di più di sangue. Solo allora possiamo costruire per la felicità, invece di il favoritismo. E' per questo che abbiamo studiato il giallo delle miste, o fare ricerca per sapere tutto ciò che possiamo sulle sangue. Ma il miasma è stato un problema reale, che rende il nostro cuore ancora più pez, quindi il nostro progetto è stagato. Ora abbiamo una glimma di speranza. Il vostro potere può riuscire il miasma. Se tu potessi aiutare? Beh, ci saremmo in un conflitto migliore. Ma ancora, la verità è che non abbiamo molto speranza senza te. Sì, dovresti attraversare? Sì, dovresti attraversare? Sì. Da ora, sei uno di noi. Sì. 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 speriamo di vedere a te in attenzione ora iniziamo, qui c'è quello che sta succedendo stiamo studiando l'acqua di sangue e il loro spraggio vogliamo sapere come e quando l'acqua di sangue i cicli per produrre l'acqua e la composizione delle l'acqua di loro abbiamo fatto qualche scopo prima di tutto, abbiamo trovato che ci sono tubi come capillari che riuscano all'acqua di sangue lo chiamiamo le sangue e in modo che possiamo determinate ogni scopo di sangue è trovata sulle una delle sangue di sangue anche dopo comparare le sangue di sangue e sangue noi sappiamo che sono principalmente di stagione delle stagioni in altre parole possiamo sicuramente assumere che le sangue le sangue di sangue sempre formano le sangue le sangue e crediamo che questo significa che c'è una scuola un tipo di luci per le sangue 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 secondo me qui può andarci no se cercano i sotterranei andare ciò sotterranei andiamo ciò sotterranei e quai sotterranei forse Sì, ma lo so Siete rai sono qui, è impossibile Sono andato prima No, penso che non intenda questi socialani Non è abbastanza Qui è mezza nuda Qui è mezza nuda Sorgenti termali, cosa che fa? Ah, rievoca Vediamo Filmati Possibile Eh sì, filmati Beh, dico Torno alla base Yes Yes Ok 140 Sti cazzi, sei cara ciccia Sì, giappo Non c'è Sì 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 Ok 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 raga Andiamo avanti un po' Teletransportiamoci Col CV esterno 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 Sì 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 Si Vuoi andare da qua mi sa raga Sì 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 andiamo sempre in giro Ah, qui c'è sempre qualcosa Una mappa Ok E qui? Ah, un altro fallo That's something Expectations exceeded That settles it You are absolutely vital to our operation There are more blood springs ahead But the miasma is blocking the way forward Do you think you could clear it for us again? Thank you We know where two springs are Thanks to past expeditions Let's go have a look at them The territory up ahead is teaming with the lost Watch yourself Ok And now we're going to go Ancora un pelino And now we're going to see We're going to see everything here Come are you sbiaditi Look at theiend I'm going to go A A B I'm going to go 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 And now you're going to go C'è un progetto? C'è un progetto? C'è un progetto? C'è un caso? Qua era lo stesso punto, andiamo avanti Non so se va più in fretta a fare così o... Oh, qua non c'era più niente quindi Oh! Cazzo! Oh! Cazzo! Mi hai spaventato? Oh! Quanto imparare a parare! C'è le cure, non è che sono infinite? Cazzo! 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 Ok... ... Proprio sono allineato ancora... Eccolo qua! Oh cazzo! Marco! E' schiva! eh lo sapevo oh grazie hmm the vehicles are like barricades sacco di roba ce la fa oh cazzo ma sei serio no ma sono sempre in due no no can't regenerate let's consider heading back that's quite valuable let's use it well something could leap out from anywhere oh cazzo iya iya oh non ho più vita e non posso rigenerarmi quello non ho lasciato niente grazie eh c'è solo che mi sta scassando proprio oh hey what is it you ok yo louis you smell that yeah human blood an escapee now where did she run off to no hey chums what the hell are you doing here none of your business oh really then tell me this why would scum like you why would scum like you have the sweet stink of a human on you the girl belongs to us put your paws on our property and your ash that clear come here 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 fresh blood is some powerful stuff you hanging in there you hanging in there so what's the plan now we know it's just a matter of time until they find that missing human you know the plan hell yeah let's hope she hasn't been devoured by horrors yet ok attiviamo qui e siamo a poste lì solo se c'è un po' di roba questo è tipo la porta per andare ok più avanti ok raga bella ragazzi un saluto da marco drums su code bay alla prossima parte e ciao a tutti è è non che ha è è è è è è è Grazie a tutti.